Ciao Lidia, è un po' che non ci vediamo e che non ci sentiamo, però so che stai lavorando alla grande nonostante il momento un po' di difficoltà, ma quello tutti purtroppo. So che il 27 di luglio è il tuo compleanno insieme al tuo compagno Rudy, quindi volevo cogliere l'occasione per farvi gli auguri a tutti e due. Vi abbraccio forte e spero di vedervi presto. Ciao.